Andrea Caso, candidato del Movimento 5 Stelle, il collegio uninominale di Pozzuoli che abbraccia un'area molto vasta, ce la vuole dire? Allora, l'area del collegio uninominale di Pozzuoli parte da Marano, comprende Pozzuoli IV, Monte di Procida, Bacoli e le isole comprese. Perché votare Movimento 5 Stelle? Allora, votare Movimento 5 Stelle significa votare per la credibilità, che è quello che in questi anni ci ha contraddistinto, perché tutto ciò che noi abbiamo promesso abbiamo mantenuto, a differenza degli altri che in 20 anni non hanno raggiunto e non hanno mantenuto le loro promesse. Nel corso del suo tour elettorale per i vari comuni, il collegio avrà trovato sicuramente tanto colore, c'è un comune in particolare dove ha trovato molto entusiasmo? Guardi, in particolare io non ho trovato nessun comune specifico, ma ho trovato una rabbia da parte di tutti i cittadini del comprensorio dell'area flegrea. E' veramente una rabbia e un voler spazzare quello che è la classe politica degli ultimi 20 anni. Senta, all'Union Milare si vince per un voto in più rispetto all'avversario, ecco, qual è l'avversario più ostico del suo collegio? Beh, guardi, non c'è nessun avversario in particolare, è una partita aperta fino all'ultimo minuto. E adesso se lei dovesse essere eletto porterà sicuramente le istanze del territorio, qual è le più urgenti? Allora, ci sono in particolare diverse istanze sul territorio, partendo dall'ambiente. Per anni abbiamo lottato per questo tema sul territorio, non c'è più una politica credibile, è una politica che ascolti le stanze effettive dei cittadini. Viviamo in una città che ha lo sbaraglio, dove non ci sono più servizi. Lei si riferisce a Marano in particolare? Io in particolare mi riferisco a Marano, però diciamo che questi problemi sono comuni a tutti gli altri comuni del comprensorio. Pertanto noi dobbiamo essere, noi portavoce, perché così ci definiamo, dobbiamo essere quella voce di quelle istanze dei cittadini, dobbiamo essere quella parte politica che ascolti i problemi dei cittadini e faccia da connessione con le istituzioni locali.